Un cantante conduttore e un tenore, tre mondi diversi uniti da un filo comune, una dichiarazione da moralitaria. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente. Io credo nella mia cultura e nella mia religione, per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione. Sì, stasera sono qui per dire al mondo e a Dio, Italia, amore mio. Mi dispiace che la regia non ha inquadrato Mussi, lei stava a cantare. Mi sarebbe piaciuto sentirla cantare Don Savoia il 10 settembre del 1943. Ammazza! Penati! Oggi è il 24 febbraio, 20 anni fa moriva Sandro Pertini. A questa canzone preferisco l'italiano di Totto Cotugno con il presidente partigiano. Ottimo nominello. 20 anni fa moriva Sandro Pertini e vale la pena anche ricordarlo. Siamo tutti repubblicani dopo questa esibizione. Ma uno che difenda, Tosi, almeno lei, un po' di simpatia per Emanuele Filiberto. Emanuele Filiberto rappresenta... È caduta una cabina tecnolata. Un cellulato. Che è successo? Emanuele Filiberto. Emanuele Filiberto rappresenta una dinastia che è piuttosto francese, vero? Se andiamo a guardare... Adesso arriviamo alla dizione etnica. Mi vengo a parlare d'Italia. Delle persone che sono più francesi che italiane, perché in realtà è questa la loro storia. Quindi porti pazienza. Io non l'avevo mai sentita. Con l'auto per Tosi. Adesso la canzone che fa schifo. Io ho ascoltato l'inno alla mia patria. Pure monarchica? No, voglio dire per l'Italia. Prima di tutto sono italiana e metto sempre la casacca della nazionale. Un inno alla patria l'ho trovato meraviglioso.